Loro scorrazzano tranquilli non curanti del fatto che si trovano in pieno centro città. Si tratta di Topi, una vera e propria colonia che è stata perfino filmata e immortalata da chi passando dalla collina di Poggio del Sole ad Arezzo non credeva ai suoi occhi. Inutile dire che l'indignazione dei cittadini è letteralmente scoppiata sui social. Non è certo un bel biglietto da visita da presentare ai turisti che magari scendono dal treno alla stazione di Arezzo o parcheggiano l'auto per andare in centro. Eppure loro, i topolini, sbucano dalle fioriere da sotto una cabina telefonica in tutta tranquillità, in cerca forse di qualche briciola sfuggita ai piccioni, pure loro assidui frequentatori della zona. Il problema, racconta un autista degli autobus sulle colonne virtuali di Arezzo Notizie, si sta verificando da questa estate. Ormai questi topi non hanno più paura degli umani, anzi a volte ci guardano incuriositi dai nostri gesti. L'amministrazione comunale sarebbe già stata avvisata del problema e le operazioni di deratizzazione sarebbero state programmate. Ma al momento la colonia non sembra essere troppo preoccupata, anzi sembra quasi beffarsi di coloro che, speriamo al più presto, li sistemeranno in una location più consona del centro città.